Con l'arresto della donna dei pizzini, Rosalia, la prima delle quattro sorelle di Matteo Messina Denaro, viene colpita per la prima volta la macchina che ha arretto la latitanza del super boss a casa sua per 30 anni. È questa l'accusa. Rosalia era in pratica, secondo la DDA di Palermo, la mente e lo snodo della famiglia. A casa di Rosalia i carabinieri avrebbero scoperto il 6 dicembre 2022, nascosto nell'incavo di una sedia, il pizzino che diceva che Matteo Messina Denaro era ammalato gravemente e nel giro di un mese lo hanno individuato e arrestato. Sempre a casa di Rosalia sono stati trovati i pizzini che raccontano della cassa di famiglia, con capacità economiche ingentissime. Ma non sono i soli pizzini trovati nelle due abitazioni utilizzate dalla sorella di Messina Denaro. Quella di Castelvetrano e una nella campagna di Contrada Strafatti, a pochi chilometri di distanza. Ce n'erano molti altri che in alcuni casi coincidono con quelli scoperti nel covo di Campobello abitato dal boss fino al giorno della sua cattura. Li conservava come una sorta di copia lavoro, per ricordarsi le istruzioni fornite alla sorella e le date delle successive consegne di corrispondenza, all'interno di un sistema di fermoposta con le scadenze prestabilite. Se erano pizzini di mafia la sorella era chiamata Fragolone, se erano di famiglia Messina Denaro la chiamava Rosetta. In uno di questi indirizzato per tutti del 2022 ci sono considerazioni poco lusinghiere nei confronti della figlia Lorenza, con cui il boss sembra non avesse più nessun tipo di contatto o rapporto. La definisce degenerata per non aver più avuto rispetto per il padre, cioè per se stesso. Non sorprende poi troppo che la sorella di Matteo Messina Denaro finisca agli arresti per avere coperto la latitanza del fratello e per aver amministrato i soldi sporchi della famiglia. La cronaca ha offerto tanti profili di donne di mafia che hanno aiutato o sostituito i mariti, i fratelli latitanti o arrestati, ma fra le pieghe della svolta investigativa di oggi emerge un pizzino la lettera trovata in casa di Rosalia Messina Denaro, a firma appunto del fratello sulla quale riflettere. Una lettera in cui il boss, la titan, allora latitante, nel suo delirio diceva che essere incriminati di mafiosità arrivati a questo punto poteva essere considerato un onore. E redarguiva la figlia, sua figlia, Lorenza, 26 anni, che non ha mai conosciuto, forse perché lei stessa, Lorenza, non ha voluto avere alcun rapporto con il padre. Di qui un rimprovero esplicito del boss. Lorenza è cresciuta male e degenerata nell'infimo. Degenerata. Degenerata perché non onora il padre. Ecco, Lorenza, finora silente, potrebbe davvero diventare un esempio per spiegare ad alta voce che degenerato semmai è il padre.